Samantha Cristoforetti diventerà comandante della stazione spaziale internazionale Ah, e sarà la prima donna italiana ed europea a ricoprire questo ruolo La conferma arriva dall'Agenzia Spaziale Europea ed è ovviamente motivo di vanto per il nostro paese ma soprattutto è un momento meritato e fondamentale per la carriera di Astro Samantha che con le sue capacità professionali ha dimostrato in questi anni che il cielo non è un limite anzi, si prepara ad andare verso l'infinito e oltre A passarle il testimone sarà il comandante russo Oleg Arteniev ed è la seconda volta che questo importante ruolo viene ricoperto da un italiano Prima di lei Luca Parmitano La cerimonia di passaggio sarà il prossimo 28 settembre e potremo godercela anche noi qui, dalla Terra Sono onorata per questa nomina, ha dichiarato Cristoforetti Non vedo l'ora di attingere all'esperienza che ho acquisito nello spazio e sulla Terra per guidare in orbita una squadra molto capace Grande Samantha!